buon pomeriggio da zolder qui che qualcosa è emozionante perché faccio le volte fatica anche a parlare quella l'escesa addosso l'uscita della memboccia qui questa altezza 50 metri gilla fece il suo ultimo volo finì qui sul terrapieno capotando più volte vari tonno adesso qui c'è la chicane in fondo tra poco andiamo a trovarlo e dove finì sulle reti qualcosa di emozionante qualcosa emozionante ragazzi la pelle d'oca